è buono il panino? è buono? così poi il nonno Enrico è contento che sta andando a mangiare due porcheriole qui bene cipolo ho un po' d'acqua arriva della gente, la ti ammessa saluta un po' bravo e fa più adesso bravo Miche sei stato molto bravo non hai neanche salutato il tizio bene buon lavoro Miche acqua bravissimo Miche hai visto un'altra soddisfazione per il nonno Enrico non hai coi ok Miche ciao 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 Grazie a tutti.